Buongiorno da Lugano, siamo qui presenti a Villa Ciani per la grande manifestazione del lusso e dell'arte che ci vede protagonisti con le opere di Ivan Tureschi e del Maestro Milo in collaborazione con la Galleria Agostino Art Gallery di Milano, Arte Milo 1941 e OLG di Chiasso. Venite con noi per scoprire il tutto, ciao!